Bentornati, allora è da parecchio tempo che mi state chiedendo un video su Sinopoli e io sono sempre stato molto restio a farlo perché, per le ragioni che vi dirò più avanti, Sinopoli non era tra i miei direttori preferiti ed essendo passato a miglior vita e oltretutto essendo passato a miglior vita, insomma, così giovane mi sembrava brutto fare un video su un artista che io non avevo fondamentalmente capito fino in fondo e che probabilmente non ho capito in fondo neanche oggi Allora, perché l'ho definito il più tedesco dei direttori italiani? Qualcuno già potrebbe avere qualcosa da dire, potrebbe dirmi che forse è stato a bado il più tedesco dei direttori italiani Io in realtà, credo che Sinopoli, per il percorso che ha fatto, per l'intima relazione che aveva con la Germania e con tanti suoi compositori, Wagner, Mahler, Brückner, Germania e Austria, ovviamente Webern, Richard Strauss, insomma, e quant'altri Per il fatto che parlava fluentemente tedesco e per tutti i suoi studi, insomma, che l'avevano portato ad approfondire molte tematiche anche filosofiche legate alla Germania è per queste ragioni che io ritengo Sinopoli più tedesco dei direttori italiani anche perché lui in realtà, sì, direttore, ma non era solo direttore, innanzitutto era anche un compositore ma poi aveva una preparazione proprio sua personale molto colta basti di dire che aveva una laurea in medicina basti dire che stava prendendo prima di morire una seconda laurea in archeologia che poi mi siano sbagliati è stata data postuma e basti dire, insomma, il suo interesse per la storia, la filosofia e mediamente un interesse molto intellettuale riguardo le cose che dirigeva in certi casi, e forse per questo non mi ci trovo molto affine più intellettuale e concettuale che non musicale cioè nel senso, lui era capace sicuramente di parlarti 20 minuti di un minuetto di Schubert o di un brano di Richard Strauss spesso lo faceva anche in prova e questa è un'altra cosa che a me non piace tantissimo cioè i direttori che tengono le conferenze in prova mediamente non mi piacciono nel senso, io credo che sia giusto che il direttore faccia all'orchestra dire delle indicazioni sulla tipologia del brano su che cosa c'è dietro questo brano che cosa ha voluto significare che cosa ha significato per il compositore che cosa il compositore vuole dire tutto giusto ma per esperienza però so anche che poi mediamente le orchestre un po' si annoiano e poi non sono granché interessate alla fin fine l'orchestra è un organismo musicale a cui bisogna dare delle indicazioni musicali arcate, dinamiche, intenzioni, fraseggio agogica, articolazioni insomma è tutto quello che fa parte della concertazione ecco perché dico anche per questo aspetto non era il mio direttore preferito anche perché, ma questo ovviamente è un limite mio io non amo particolarmente cioè non sento ecco non sento particolarmente il repertorio tedesco tardo romantico che invece lui tanto amava non lo sento ovviamente per un limite mio che sia ben chiaro perché io forse sono un sempliciotto musicalmente a me piace quella musica che mi smuove che mi tocca qualche corda qualche corda interiore e quel tipo di musica mediamente repertorio tardo romantico tedesco che io apprezzo dal punto di vista della scrittura perché insomma è una scrittura altissima raffinata molto difficile anche per tanti versi non riscontra il mio gusto insomma esattamente come come anche altri repertori non mi piacciono e forse anche proprio come direttore tecnicamente un po' per la divisione che faceva Furf Wengler tra il passionale e il controllato ecco ho sempre avuto l'impressione che lui fosse molto intellettuale in certi casi un po' mi permetto di dire cervellottico in certe sue in certe sue scelte musicali scelte musicali scelte musicali che avevano veramente la radice nella scuola tedesca Furf Wengler in particolare pensiamo solo al discorso del razionale contrapposto al naturale anche Richard Strauss che ancorché fosse un direttore atipico nel senso che dirigeva tutto senza la minima espressione facciale con un gesto che era assolutamente indipendente da quello che stava accadendo musicalmente sulla scena o sul palco è un gesto sempre piccolo estremamente razionale estremamente freddo però ai miei occhi ai miei occhi freddo insomma per questa serie di ragioni appunto Sinopoli non è mai stato tra i miei direttori preferiti anche quando si rivolgeva al repertorio italiano insomma io con questo CD che l'ho consumato insomma è una famosa edizione di Nabucco l'ho consumato per certe cose che mi piacciono molto certe cose del coro certe cose di cappuccilli però non è il tipo di non repertorio repertorio sì repertorio è proprio quello che mi piace però non è il tipo di esecuzione che mi convinca che mi piaccia stiamo parlando ovviamente di gusti attenzione non stiamo parlando di nient'altro che di gusto un'esecuzione molto tedesca in questo senso molto misurata molto razionale e poco passionale l'esatto opposto di come piace a me dirigere e dei direttori che mi piace che mi piace seguire insomma che mi piace ascoltare e però insomma che questa mia convinzione fosse mia ed evidentemente solo mia è testimoniato dal fatto che Sinopoli ha diretto le più grandi orchestre del mondo dalla Philharmonia Orchestra alla Statskapelle di Dresda l'Orchestra della Scala l'Opera di Roma insomma e tante altre tante altre orchestre che oltretutto insomma consideriamo anche che è morto a 50 anni a poco più di 50 anni insomma quindi avrebbe avuto sicuramente il tempo di fare molto molto di più bene eccoci nello studio vediamo una parte di alcune sue prove di alcune sue interpretazioni ecco questo potrebbe essere ho detto che in certe cose erano estremamente razionale poco passionale forse questo potrebbe essere una meravigliosa contraddizione rispetto a quello che ho detto no? però comunque sia anche in qualcosa di un po' magari anche un po' coreografico che i direttori fanno neanche io ci sono cascato spesso insomma però le sue letture erano sempre molto lucide mai abbandonate mai come dire fuori controllo ecco questo proprio non sapete perché ho detto in otto io? non perché non perché non si può fare che in otto ma è per farvi per ricordare a tutti che il sedicesimo è un sedicesimo cioè metà del movimento e non un quarto del movimento questo soltanto questo ecco qui siamo a a uno dei suoi pezzi forse più amati insomma l'Alsospracht Zarathustra di Richard Strauss ecco veniamo a una parte delle prove che credo che possa essere interessante no dovete colpire la nota ogni volta c'è scritto c'è scritto feierlich feierlich vuol dire solenne è l'annuncio di qualcosa non in punta di piedi è piano perché viene da lontano ma non perché è mollo deve essere una cosa di una violenza inaudita allora è come se aveste un'energia di secoli dentro di voi altri e poi nasce questo suono ecco fermi fermi il crescendo con i timpani il crescendo voi dovete farlo insieme ai timpani cioè i timpani fa il crescendo e voi seguite si deve sentire qua c'è un movimento tellurico se voi vede il personale forte sembra che quello sia giunto per fare un colore ancora una volta allora ancora quello è un po' fiappo bene one e sei gut tre scusate uno due tre fo pa 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 allora vede qui lui ha ragione ha ragione dal punto di vista di quello che c'è scritto però l'orchestra in realtà ha fatto quello che il suo levare e il suo gesto ha suggerito e a volte c'erano questi problemi di difficile comunicazione con l'orchestra succedeva quello che noi possiamo prendere come sensazione è questo questo vecchio saggio che da solo nelle montagne ecco questa è una dimostrazione di quello che dicevo quando faceva delle lunghe e tutto tutto sommato questo mondo è un mondo che non ha molta consistenza spiegazioni all'orchestra leggero un mondo fatto di divisioni di fantasmagorie diciamo di fate morgane tutto quello che rimane alla fine poi è il silenzio è la notte e tutte queste cose qui quindi questa tutto questo valzerino qui è il segno della fantasmagoria del mondo leggerissimo per cui passano il mondo diventano i gali di Vienna diventano il luogo teamente diventano le signorine con la gomma diventano tante cose capito cioè tutto quel mondo lì che viveva fra il profumo dell'orchidea del suicidio la mattina dopo insomma sono quelle cose quindi bisogna 26 qui siamo nei waltzer nei waltzer di Strauss Richard e quindi qui bisogna fare bisogna fare in un certo modo dunque c'è una differenza quelli di Johann Strauss Josef e Company quelli sono l'epoca sono espressione di quell'epoca sono espressioni di quel momento questo invece è memoria passata però non elaborata come fa male con l'esperienza del passato come dolore dell'infanzia qui non c'è nessun dolore qui è tutto un'epoca che è passata che era lucente che era anche dura tutto sommato perché era molto lontano da tante cose e qui bisogna realizzare questi passi con un virtuosismo incredibile con una leggerezza di suono incredibile tutto oro di primissima qualità che non esiste più ma non c'è non c'è tanto cuore c'è un po' di pelle un po' un cuore niente qui è come se praticamente un momento dell'epoca fosse fotografato con una fotografia a fuoco violentissimo ma niente ma non è che c'è l'anima di quell'epoca però quel gesto questo deve essere fotografato in maniera incredibile ecco non so se aver visto queste fasi di prove e di concerto nelle quali volutamente non ho voluto intervenire vi ha fatto meglio capire quello che intendevo quando dicevo che lui tendeva a raccontare tanto all'orchestra che che non è sbagliata di per sé come cosa però mediamente l'orchestra ha troppe indicazioni di questo genere non piacciono infatti lui ebbe più di un problema con qualche orchestra perché appunto gli si imputava un'eccessiva intellettualizzazione della prova diciamo così piuttosto che piuttosto che riempirla di indicazioni musicali che è quello che l'orchestra fondamentalmente vuole sta di fatto che questa forse eccessiva intellettualizzazione era nella sua natura lo si vede dall'intervista lo si vede nei suoi scritti lo si vede anche in quello che ha scritto perché ricordo che era anche era anche un compositore anzi lui nasceva come compositore e solo in seguito aveva si è dedicato alla direzione dell'orchestra insomma sono tutti lavori molto attenti molto intellettualizzati e intellettualizzanti ricordo in particolare che all'opera di Roma ebbe una serie di anche scontri con con l'orchestra per questa per questa precisa ragione e d'altronde lo vediamo anche dalle sue interviste con una persona molto preparata molto colta anche un po' riservata anche un po' apparentemente chiusa per questa da questo punto di vista e ciò nonostante benché non avesse come dire forse l'estro che generalmente uno si aspetterebbe da un direttore d'orchestra soprattutto italiano parlo ovviamente di stereotipo naturalmente di un tanto di stereotipo raggiunse una fama veramente enorme a riprova di questo ricordo che c'era un film vi direi della fine degli anni 90 in cui l'attore interpretava un famoso direttore d'orchestra e durante un'intervista diceva alcuni miei colleghi come Karajan Kleiber e Sinopoli fanno questa cosa qui io no e quindi insomma per farvi capire nella anche percezione internazionale qual'era la considerazione che c'era per lui tra l'altro ci fu un marchiano errore del doppiatore insomma del doppiaggio perché l'attore diceva Karajan Kleiber e Sinopoli cioè Sinopoli pronunciato all'americana che ci sta che un americano pronunci Sinopoli Sinopoli il problema è che poi nella traduzione nel doppiaggio italiano evidentemente evidentemente il direttore del doppiaggio non si era informato bene su chi fosse questo strano se Napoli e quindi era venuto Karajan Kleiber e se Napoli invece che Sinopoli vabbè insomma una volta la cialtroneria molte volte rientra in tante cose del mondo dello spettacolo scrivetemi nei commenti cosa pensate voi di Sinopoli e quali erano secondo voi le loro le sue caratteristiche particolari in particolare e quali sono state le composizioni delle dirette che più vi hanno colpito ringrazio in particolare Davide per la realizzazione di questo video iscrivetevi al canale sapete già come fare se volete lasciare un like se volete abbonatevi e noi ci vediamo al prossimo video